Ok, andiamo allora. 5, 4, 3, 2... Amici di Teleblu, ben ritrovati. Vi parliamo dai magnifici studi televisivi del Parlamento europeo a Bruxelles. Siamo in compagnia di un eurodeputato italiano e meridionale, lo sottolineo, perché l'onorevole Crescenzio Rivellini si definisce spesso orgogliosamente meridionale. L'onorevole Crescenzio Rivellini, che è del Partito Popolare europeo, uno dei gruppi di maggior rilievo qui a Bruxelles, per quanto riguarda l'adesione italiana, è un parlamentare di futuro e libertà per l'Italia. L'onorevole Rivellini, lei ha un incarico di particolare rilievo nell'ambito del Parlamento europeo, è infatti il presidente del Comitato Europa-Cina. La prima domanda è scontata. La Cina è vicina? La Cina è vicinissima. Basti pensare che ormai le distanze sono completamente annullate. Un container dalla Cina fino al Mediterraneo ci mette meno di una settimana ad un costo irrisorio, 1.500 euro. Come a dire che ormai la globalizzazione ha portato la Cina in casa. E una valutazione bisogna farla, e mi aggancio anche a quella sua battuta iniziale. Io sono orgogliosamente un cittadino del Sud Italia, io sono figlio di quella terra che è stata definita nel passato per l'arte, la cultura, la scienza, la patria della Magna Grecia. Sono stato eletto da quei cittadini, 110.000 cittadini del Sud che mi hanno votato, e nell'ambito delle comunità europee, perché l'Europa è un insieme di comunità, il mio obbligo è difendere sì la comunità europea e difendere sì la comunità italiana, ma difendere principalmente i 110.000 cittadini che mi hanno votato e quindi il Sud Italia. Dico questo perché il Mediterraneo, che è solo l'1% del mare mondiale, è al centro ormai del mondo. Il 16% dei traffici mondiali passano nel Mediterraneo. Il Mediterraneo divide mondi che producono da mondi che consumano, ed è quindi la Cina, che è il mondo che produce in assoluto ed è veramente la tigre economica del nuovo millennio, è quindi interessante poter svolgere il ruolo di presidente della delegazione Europa-Cina in quest'ottica complessiva. La Cina naturalmente è per noi una terra di opportunità e di timori, abbiamo paura dell'invasione, abbiamo paura della contraffazione, insomma di tante questioni legate alla Cina, però si tratta anche di un mercato formidabile, non fosse altro che per le sue dimensioni. In che equilibrio l'Europa deve tenere paure e speranze rispetto alla Cina? Ma nessuna paura e solo speranze. Io sotto lo slogan l'impero dell'Aquila e l'impero del Dragone ho voluto fortemente avvicinare le due civiltà. Io credo che nel mondo, nell'universo esistono solo due grandi civiltà, la civiltà del Dragone, la civiltà cinese, la civiltà dell'Estremo Oriente, e la civiltà dell'Aquila, la civiltà romana che ha civilizzato l'Occidente. Due mondi completamente differenti, che poi alla fin fine sono molto simili, queste due civiltà si rassomigliano. E queste due civiltà devono essere il volano per la pace, per lo sviluppo, per l'economia nel mondo. E bisogna portare avanti una serie di incontri, una serie di accordi sulla cultura, sul turismo, ma anche sul commercio, ma anche sulla sanità, e poi dopo le dirò qualche altra cosa in merito, per avvicinare questi due mondi. Immagino un mondo che produce prodotti, il mondo asiatico, e un mondo che produce idee, il mondo occidentale. Possono insieme collaborare per la crescita complessiva della pace e dell'economia nel mondo, naturalmente fronteggiando l'imperialismo cinese, che in particolare nei paesi del Nord Africa, grazie alle grandi riserve economiche che ha, riesce ad avere uno sviluppo fondamentale. Un'ultima battuta. La delegazione Europa-Cina, fatta da 76 deputati, 38 cinesi e 38 europei, è molto importante. È molto importante perché riesce in qualche modo a controbilanciare il potere cinese. Il potere cinese che viene condensato, se mi permette, non in una battuta, ma in una riflessione. L'Europa si fronteggia con la Cina con 27 paesi, 27 primi ministri, 27 ministri degli esteri, 27 ministri dell'agricoltura, 27 ministri del turismo e via di seguito. E dall'altra parte c'è un solo premier, un solo ministro dell'economia, un solo ministro della difesa, come a dire che noi dobbiamo mettere insieme 27 paesi e 27 teste, loro solamente una testa, e quindi sono molto più agili nelle decisioni. E oggi che il mondo vola, che il mondo corre, questo è sicuramente un handicap per l'Europa. E quindi naturalmente, come dire, organizzarsi, fare massa critica, ci permette di competere anche con un territorio così vasto e così densamente popolato. Un territorio che naturalmente ha pari dignità culturale, come lei ha ricordato, con questa sua bella iniziativa dell'impero dell'Aquila e dell'impero del Dragone, con cui ci sono fin dall'antichità scambi feconti, anche gli spaghetti, a quanto sembra, li abbiamo importati dal celeste impero. Ma in prospettiva, soprattutto alla luce delle perduranti caratteristiche, non del tutto democratiche, del sistema politico cinese, questo è un fenomeno che il rapporto con l'Europa può modificare, può migliorare? Sicuramente, può modificare, può migliorare e può migliorare l'Italia. Lo ripeto, io sono un politico italiano e un politico meridionale. E può migliorare proprio il Sud Italia, che è la piattaforma logistica verso il Mediterraneo ridiventato centro del mondo. Immagino Bari, immagino Napoli, immagino tutto il Sud, che colgono a volo quest'occasione particolare dei rapporti con la Cina e riescono ad avere uno sviluppo economico interessante. Proprio per questo io ho lanciato questo nuovo accordo con il gigante cinese, che lo ripeto, è sotto la sigla l'impero dell'Aquila, l'impero del dragone, che si incontrano e si sviluppano. E che avrà anche momenti culturali di altissimo dimensione. E che avrà dei momenti culturali. Sotto questa sigla noi svilupperemo un incontro annuale sulla sanità, un anno in Cina e un anno in Europa, perché la salute non è né dell'Oriente né dell'Occidente, è di tutti i cittadini del mondo. Quindi lo scambio di informazioni tra la medicina cinese e la medicina europea è essenzialmente utile ai cittadini di questo universo. Un incontro turistico-culturale. Naturalmente 30 milioni di cinesi che ogni anno vengono in Europa, 30 milioni di cinesi, la metà di tutta la popolazione italiana, potrebbero essere interessati a scoprire l'impero dell'Aquila, quindi l'impero meridionale, l'impero romano, perché Pompei, i grandi reperti archeologici romani sono tutti nel sud Italia. Sono 30 milioni di cinesi, quindi uno sviluppo del PIL molto interessante. Un sviluppo dei rapporti sull'istruzione, sulle università. Io ricordo che due grandi uomini del sud, Matteo Ricci e Matteo Ripa, Matteo Ricci addirittura è santificato in Cina con il nome di Li Maò, sono stati prima e meglio di Marco Polo gli ambasciatori dell'Occidente in Asia. Quindi sviluppare questo rapporto e naturalmente accanto a questo poter sviluppare rapporti commerciali, immagino dei porti franchi nel mezzogiorno d'Italia che possono con la Cina poter lavorare dei semi lavorati e sviluppare l'economia meridionale. Naturalmente un ruolo importante in questo processo lo riveste anche la comunità cinese in Italia che fra immigrati regolari e immigrati un po' meno regolari ha ormai una sua consistenza significativa. Come giudica lo stato dei rapporti fra l'Italia e questa comunità? Nel mezzogiorno d'Italia ci sono circa un milione di cinesi, alcuni regolari, alcuni irregolari. Svolgono attività economicamente molto rilevanti, sono ormai una realtà. In Italia esiste solo l'ambasciata cinese a Roma, non esistono consolati periferici, consolati onorari. Io credo che bisognerà sviluppare il rapporto con la Cina, uffici periferici, ma mi permetta, io vorrei lanciare da questa emittente una grande proposta che sto facendo al Parlamento europeo da due anni a questa parte. Quella di creare nel mezzogiorno d'Italia un ufficio euro-mediterraneo del Parlamento europeo. In tutti i paesi della comunità europea esistono tre antenne, tre uffici periferici. Ce ne sono tre in Inghilterra, tre in Spagna, tre in Germania, in Francia addirittura c'è Strasburgo. Strasburgo. In Italia ci sono solo due uffici periferici, che sono Roma e Milano. Come a dire che il Parlamento europeo ha dimenticato 20 milioni di cittadini del sud e ha dimenticato il Mediterraneo, in particolare in questo momento di grandi sconvolgimenti epocali con le rivoluzioni nel Nord Africa. L'Europa potrebbe interessarsi al sud, ormai a est è già andata, al nord è già andata, può venire solo al sud l'Europa. E quindi credo che ci sia bisogno di un ufficio periferico, di un'antenna periferico euro-mediterranea, non italiana, nel sud Italia. Ho fatto più di una proposta e spero che nel bilancio del Parlamento europeo che approveremo fra qualche mese si possa approvare l'apertura di questo ufficio nel Mezzogiorno d'Italia. Beh, sarebbe sicuramente una cosa utile. Onorevole Rivellini, siamo agli sgoccioli della nostra conversazione per il lavoro, per il ruolo che lei ricopre. Naturalmente è andato diverse volte in Cina e vorrei chiederle che cos'è, secondo lei, che noi possiamo invidiare soprattutto alla Cina e quando va lì, cosa pensa che i cinesi debbano invidiarci? Se c'è qualcosa che ci devono invidiare. Noi dobbiamo invidiare il loro senso civico e la loro organizzazione. È impressionante vedere, sono stato all'Expo di Shanghai, è stata impressionante la visita dei padiglioni e centinaia, se non migliaia e migliaia di cinesi infila correttamente senza che nessuno avesse neanche un moto di ribellione per ore per poter visitare i padiglioni cinesi. I cinesi devono invidiare la nostra inventiva, la nostra allegria, la nostra capacità di poter in qualche modo uscire dai momenti più difficili con la nostra fantasia. Ecco, se si potesse in qualche modo coniugare l'organizzazione cinese con la fantasia italiana, credo che si avrebbe il cittadino ideale del mondo, per così dire. Ma mi permetta, io sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto come Presidente della Delegazione Europa-Cina. In questi due anni ho sconvolto i canoni tradizionali del Parlamento europeo. Qui c'è un asse politico franco-tedesco che comanda l'Europa e questo asse franco-tedesco, le innovazioni, le novità, è restiva ad accettare qualche novità. Il fatto stesso che la Delegazione cinese per la prima volta è venuto nel SID Italia, non ha fatto la riunione qui a Bruxelles, ha un po' sconvolto i canoni. Il fatto stesso che il prossimo anno va in Spagna e non viene qui a Bruxelles, ha continuato a sconvolgere i propri canoni. Siamo in qualche modo lavorando per un'Europa diversa, un'Europa che vada nei territori e che non sia solamente fra Bruxelles e Strasburgo. È una rivoluzione che mi piace portare avanti, mi piace pubblicizzare, perché spero di poter essere un politico rappresentativo e non uno di quei tanti politici autoreferenti che rappresentano solo se stessi. Bene, questo sicuramente è un rischio che si può evitare solo accostandosi, avvicinandosi alle popolazioni, ai territori e ci pare che da questo punto di vista i propositi e le iniziative dell'On. Rivellini siano particolarmente lodevoli per quanto riguarda la specificità del rapporto fra il Mezzogiorno d'Italia e la Cina. Credo non ci sia bisogno di dare dimostrazioni. Fra l'altro il primo arcivesco di Pechino fu un tale Giovanni da Monte Corvino che è conteso fra Monte Corvino-Rotella in provincia di Salerno e Pietra Monte Corvino in provincia di Foggia. In ogni caso era delle nostre parti. Noi ringraziamo, prego rapidamente. Volevo ricordare, voi siete un emittente del sud Italia, volevo orgogliosamente ricordare che l'unico monumento che è sulla moneta, sull'euro, sulla moneta europea è quel castello dove Federico II, che sicuramente non si può definire un meridionalista di parte perché lui era nato fuori dall'Italia, scelse quella sede, quel castello del Monte come centro della civiltà occidentale. Questa è una cosa che noi dovremmo ricordare con un po' più di forza. Vedo che le altre nazioni europee, le altre 27 comunità europee spesso pubblicizzano cose che da noi sono di normale amministrazione. Noi che abbiamo questo orgoglio dovremmo dire con grande forza che siamo figli di quello che Federico II definì la patria della civiltà. Grazie all'onorevole Crescenzio Rivellini. Forse siamo abituati troppo bene, abbiamo tante belle cose che magari tendiamo a non valorizzarle abbastanza. Noi ringraziamo l'onorevole Crescenzio Rivellini, eurodeputato di Futuro Libertà per l'Italia e del Partito Popolare Europeo per questa intervista che ci ha concesso. Ricordo Presidente del Comitato Europa-Cina. Grazie naturalmente soprattutto a voi per averla cortesemente seguita. Arrivederci. Arrivederci.